Questo è Pantano della Zittola, sito di interesse comunitario e una delle torbiere più estese d'Italia. Questa zona potrebbe essere un importante punto di richiamo per il Molise e per i visitatori che dall'Abruzzo, in modo particolare da Castel di Sangro, Alfedena, Villetta Barrea, potrebbero agevolmente recarsi in Molise per visitare Pantano della Zittola. Ma lo stato in cui si trova questo luogo è visibile anche dal cartello che è nascosto dietro un albero e che dovrebbe indicare che ci troviamo appunto a Pantano della Zittola, sito di interesse comunitario. Anche le piccole strutture volte a favorire il campeggio, il ristoro dei turisti, i picnic, le scampagnate, si trovano in uno stato di un petro abbandono. In fondo c'è anche un asinello che sta pascolando tra i giochini dei bimbi. In fondo c'è anche un'altra zona di 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 un'altra zona di